Roberto Vasai ha scelto la strada del silenzio di fronte al GIP Fabio Lombardo. L'ex presidente della provincia di Arezzo, che in passato aveva avuto anche un ruolo di spicco nella cooperativa Gora, è infatti uno degli indagati nell'inchiesta della procura aretina sulla presunta evasione fiscale da 26 milioni di euro. Questa mattina era atteso per l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere, linea concordata con i suoi legali Luca Fanfani e Marco Mangiarotti. Vasai è accusato di concorso in reati fiscali, capo di imputazione più lieve rispetto a Daniele Mazzetti, considerato il dominus dell'organizzazione Letizia Beoni e Alessandro Corsetti, per i quali erano scattate anche le misure cautelari. Per Vasai la procura aveva chiesto l'interdizione dagli incarichi amministrativi. Il giudice questa mattina si è riservato sulla decisione. È poi slittato, in questo caso per motivi di salute, l'interrogatorio a Maria Rosario Esposito, coordinatrice interna di Agorà, sentiti invece dal GIP il responsabile amministrativo Alessandro Ghiori e il barista Agnello Sequino.